Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro credetore giallorosso 94. No, non è sugo, questo è un'ustione, ve lo dico fin da subito, così almeno non state a scrivermi cose che non c'entrano niente con il video, del tipo, ah, ti sei sporcato, ah, che cos'è quella roba, bla bla bla, ve lo dico adesso così, lo sapete fin da subito. Ma, a parte gli scherzi, volevo innanzitutto ringraziarvi per l'inaspettato successo del video di ieri pomeriggio, in cui vi ho appunto spiegato di quale altra squadra sarei potuto essere se non fosse stato per una scelta, diciamo, opportuna dell'ultimo secondo. Ho apprezzato perché comunque in tanti mi avete scritto nei commenti la storia, diciamo, del vostro tipo, perché ti fate una determinata squadra per motivi familiari, per motivi di amicizia, per motivi generici, perché comunque vi è venuto in mente di fare quella squadra, mi è fatto molto piacere ed ho apprezzato. Non vi ho risposto, ma vi posso assicurare che ho letto tutti i commenti e mi sono piaciuti molto. L'ho letto anche qualcuno che mi ha raccontato di come effettivamente sia stato ad un passo dal tifare un'altra squadra e poi alla fine abbia scelto molto spesso la Roma. E questa è comunque una cosa molto molto bella e che mi ha fatto tanto piacere. Ho deciso quindi di dare continuità, diciamo, a quel video, portandovene un altro sulla mia storia da tifoso. Se il video di ieri era dedicato principalmente a un aneddoto che però non riguarda me, ma un mio parente, cioè mio nonno, questa volta voglio parlarvi di un episodio che ha fatto parte, diciamo, della mia vita da tifoso, che reputo tuttora indimenticabile. E ovviamente poi, alla fine di questo racconto, vi invito, come sempre, a scrivermi nei commenti se anche voi avete vissuto degli episodi simili a quello che vi ho raccontato e che vi sto raccontando in questo video. Iniziamo subito. Prima di tutto passiamo alla cronostoria e alla data esatta dell'episodio in questione. 19 ottobre 2010. Io passo tranquillamente la giornata a scuola, la mattinata, e praticamente siamo a due giorni prima del mio sedicesimo compleanno. La Roma gioca in Champions League contro il Basilea e io la sera mi appropingo, diciamo, comunque, già mi preparo mentalmente al vedere, diciamo, la partita a casa del mio amico Francesco e di suo nonno Giulio, che se stanno guardando il video approfitto per salutare entrambi. Sono quelli in cui già tuttora vado e che quindi, diciamo, hanno fatto parte della mia crescita da tifosi, mi hanno fatto compagnia per tante partite, tante esultanze, tante sofferenze. Io, in quel periodo, ero anche più emotivo di adesso, cioè, vedevo le partite proprio come delle guerre, come delle cose da vincere assolutamente, stavo malissimo quando la Roma perdeva ed ero felicissimo quando la Roma vinceva, mentre invece adesso, ovviamente, alla soglia dei 27 anni, sono un pochino più tranquillo, cioè, non è che non ho più emozioni, anzi, lo avete visto voi, cioè, chi mi segue su YouTube lo sa quando mi arrabbio, quando sono felice, però riesco magari a gestire meglio le cose, probabilmente perché, oltre quello, ci sono tante altre cose in più a cui pensare, il lavoro e la ragazza in generale, comunque ci sono tanti altri pensieri che entrano nella mia testa e che quindi mi aiutano anche a distrarmi quando la Roma va male e quindi, appunto, a gestire meglio le emozioni. In quel periodo, però, la Roma per me era tutta la mia vita, praticamente. E poco dopo la scuola, mio padre mi dice che vuole portarmi a Terni, che è una provincia sempre umbra, un pochino distante da qua, comunque, sicuramente più di un'ora ci vuole, per andare in un negozio e prendere qualcosa per il mio compleanno, per farmi una sorta di regalo. Io non avevo idea in quel momento, però ho detto, va bene, andiamoci, almeno vedo un po' cosa mi puoi regalare, scegliamo qualcosa insieme e poi facciamo il classico giochetto dell'impacchettarlo e poi il 21 lo apriamo, giusto per fare un po' di scena. Partiamo, partiamo verso le 5, più o meno, 5 e mezza, e durante il viaggio di andata, i primi minuti, dico a mio padre, però facciamo veloce perché stasera c'è la partita, stasera c'è la partita della Roma, quindi non ci mettiamo troppo, al tempo ancora non sapevo quanto ci voleva per arrivare a Terni, appunto, e quindi io ho detto, guarda, facciamo veloce, arriviamo, scegliamo qualcosa al volo e torniamo, stasera c'è la partita, devo andarla a vedere. Quindi il padre, va bene, va bene, tranquillo, non ti preoccupiamo, vai pure, intanto ce la facciamo, tranquillo. Verso una mezz'oretta, diciamo, del viaggio di andata, comincio ad avere un po' sonno. Adesso non so se effettivamente mi è stato messo nel sonnifero, nel caffè oppure in quello che ho pranzato, perché effettivamente quel sonno era capitato a fagiolo, per rendere la sorpresa finale ancora più incredibile. Dicevo appunto, dopo una prima mezz'oretta comincio ad avere un po' di sonno, comincio a chiudere un po' gli occhi, a stancarmi, dicevo, avete presente quei viaggi tranquilli in cui tu ti addormenti tranquillo? Ah, e ti risvegli magari dopo cinque ore senza che te ne accorgessi? Ecco, più o meno siamo lì, siamo. Ho iniziato ad addormentare e niente, ho visto che mi sono svegliato e avevo quel rincoglionimento di chi aveva dormito per tanto tempo. Mi sono svegliato e ancora stavamo in giro, ancora stavamo guidando, mio padre stava guidando, ho detto, ma com'è possibile, ma ancora non siamo arrivati, ma saranno le sei, saranno le sei e mezza, non avevo visto l'ora, ma porca miseria, ma quando vogliamo arrivare? Adesso dobbiamo arrivare, prendere il regalo, tornare a casa, c'è la partita, bisogna cenare, ma come facciamo veramente? Io ho cominciato ancora ad arrabbiarmi, perché ho detto, madonna, che è successo? C'era traffico, c'era casino, com'è possibile che ho dormito così tanto? O ho dormito poco e penso di aver dormito tanto, oppure ho dormito tanto e non si sa dove diavolo stiamo andando. Era la seconda opzione. Praticamente, vi spiego un pochino la scena. Vedo che stiamo andando dritti per l'autostrada, a un certo punto alzo lo sguardo, vedo sopra Roma Nord. Eh, Roma, che cazzo c'entra Roma? Ma che ci facciamo a Roma? Non mi ha guardato, adesso non ricordo bene le parole, però mi ha detto una cosa tipo, tu che pensi che andava a fa? E io, no, no, ma andiamo allo stadio, andiamo? Cioè, andiamo allo stadio, non ci posso credere. E in quel momento sono esploso di gioia, vi giuro. Cioè, voi non potete immaginare quanto cavolo ero contento in quel momento, perché per me andare allo stadio olimpico è un'emozione sempre pazzesca. e in quel momento lo era ancora di più, perché comunque non sono mai andato troppo allo stadio, essendo lontano e comunque in quel periodo anche piccolo, per me ogni volta era qualcosa di incredibile. E ad andarci in quel modo, senza il minimo pensiero della cosa, è stato letteralmente incredibile. Probabilmente qualcuno di voi penserà che sono anche scemo, perché mi sono accorto a Roma Nord che stavamo andando a Roma, cioè che in quel momento non me ne ho accorto. Ma vi giuro, forse sarà stata la dormita che mi ha un po' rincogionito, ma io non capivo effettivamente dove eravamo e che cosa stavamo facendo. Poi quando ho visto Roma Nord ho detto porca troia, ma stiamo andando a vedere la partita. Roba veramente dell'altro mondo. Il fatto sta che appunto arriviamo, prendiamo i biglietti e arrivo davanti all'Olimpico. Io faccio, madonna che spettacolo, le luci, il suono della Champions, tutto bellissimo, incredibile. Ve lo ricordo perché non ero vestito neanche a modo, non mi ero portato niente, perché di solito quando vado allo stadio ho almeno una sciarpa, una maglietta, quella che me lo porto sempre. Invece ero proprio vestito da normale, cioè da casa, se così si può dire. Ed è la prima volta appunto che sono andato allo stadio senza nulla che ricordasse la Roma, anche solo vagamente, proprio perché non me l'aspettavo. Arrivato allo stadio, adesso per concludere la storia, perché comunque vi ho spiegato l'andamento e tutto, voi vi immaginerete, ma adesso vai allo stadio, sorpreso, incredibile, sarà anche una bella partita. Quella fu letteralmente una delle partite più brutte che ho mai visto allo stadio della Roma. Il momento più bello che è stato poi seguito da quello più brutto, perché la partita è stato qualcosa di vergognoso. Siamo riusciti a perdere per 3-1 in casa contro il Basilea, tra l'altro seconda con sconfitta nelle prime tre partite della Champions League, giocando di merda, sbagliando ogni cosa, facendo giusto un gol con Borriello, ma per il resto facendo una pena allucinante, prendendo anche un gol su contropiede tipo all'ultimo secondo, qualcosa di veramente allucinante. E quindi ecco, diciamo che è un po' il riassunto della storia del tifo della Roma. momenti belli alternati a momenti letteralmente imbarazzanti. Quindi la partita fu bruttissima, ma vi giuro, credetemi sulla parola, ricordate che all'inizio vi ho detto che io al tempo vivevo la Roma come la vita, come la cosa da cui dipendeva la mia felicità e la mia sofferenza. Vi giuro, quella sera, pur arrabbiato, pur deluso, ma sono tornato a casa con il sorriso. Perché sì, la partita era stata brutta, ma l'episodio in generale, cioè come ho come ho vissuto l'esperienza in maniera totalmente inaspettata, arrivare lì quando mi aspettavo di andare semplicemente in un negozio, prendere un regalo e andare a casa, è stato qualcosa di letteralmente incredibile. E tuttora, nonostante siano passati undici anni e nonostante appunto la partita sia stata davvero uno schifo, ricordo quell'episodio con grande affetto e quindi appunto ve ne ho voluto parlare perché perché sì, perché appunto voglio dare continuità a questa mia rubrica da tifoso della Roma parlandovi di tutti i miei aneddoti e tutte le cose che hanno caratterizzato il mio tifo dall'inizio alla fine. Detto questo ragazzi allora, vi invito come ho detto a inizio video a scrivermi nei commenti se anche voi avete vissuto episodi di questo tipo, magari non proprio uguali perché sono cose che penso che solo io potrei fare, cioè non accorgermi di andare allo stadio solo quando vedo il cartello Roma Nord, però magari degli episodi simili ad esempio magari che vi aspettavate un regalo di un tipo e invece vi hanno regalato una partita allo stadio cose di questo tipo comunque cose legate alla sorpresa e allo stadio cioè all'andare lì senza magari essere sicuri o comunque senza magari saperlo come se vi avessero fatto una sorpresa che non era programmata. Fatemi sapere appunto nei commenti se anche voi avete vissuto cose di questo tipo noi ci vediamo presto per un altro video oppure un'altra live sul sito Biola il link ve lo lascio in descrizione non so ancora bene quando ma ne farò un'altra presto vi terrò sempre aggiornati sul mio profilo Instagram un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi grazie